I partiti di maggioranza in fibrillazione. E mentre il PD è alle prese con la rivolta delle donne, Fratoianni annuncia il no a Draghi. L'attesa è per il voto di fiducia alle Camere. Mercoledì al Senato e giovedì a Montecitorio, Mario Draghi lavora all'agenda e al completamento della squadra, sottosegretari e viceministri. Ma il governo di unità nazionale ha provocato un'onda d'urto sulla politica, commissariata. E i partiti sono già in fibrillazione. Con uno snodo delicato all'orizzonte, quello del voto sulla giustizia, si veda la voce prescrizione. Che potrebbe compromettere i numeri della maggioranza al Senato per colpa dei 5 Stelle. Ma non solo. Nel centro-sinistra, il PD è alle prese con la rivolta delle donne escluse dal governo e Matteo Renzi. Invitato a nozze, uncina gli ex compagni di partito con una stilettata al veleno. Non riescono a proferire una parola credibile sul tema femminile. Leo Ieri si è spaccata in due come una mela. Con Nicola Fratoianni, della componente sinistra italiana, per il no a Draghi. Mentre Loredana De Petris è per il via libera. Ma è nel centro-destra che le scelte di Draghi stanno avendo una ricaduta profonda sulla tenuta e sulla natura della coalizione. Giorgia Meloni conferma il suo no al governo. Senza apparenti tentennamenti. Mentre il segretario della Lega, Matteo Salvini, ieri ha subito aperto il fuoco contro l'esecutivo. Di cui, però, fa parte, sul tema immigrazione. L'immigrazione clandestina va sconfitta a scandito Salvini da Lucia annunziata su Rai 3 penso che con Draghi su questo saremo in perfetta sintonia. Quindi ha indirizzato un siluro alla ministra Luciana Lamorgese. Chiedendo un cambio di passo nella lotta alla droga. Alla mafia e nella gestione dell'immigrazione clandestina. Io non voglio politiche sovraniste. Ma solo applicare quello che fanno altri paesi rivendica il leader del carroccio. Draghi ha detto che i confini italiani sono confini europei. Non era un mio capriccio. Penso che Draghi abbia l'autorevolezza per ottenere in Europa quello che Conte non è riuscito a ottenere.